Salve amici del Centrometro Italiano, prossimi giorni tra sole e maltempo, ma dal weekend l'estate settembrina potrebbe fare sul serio. Goccia fredda ballerina per questa settimana sul Mediterraneo, prima verso le Baleari e poi da giovedì di nuovo sull'Italia con tempo a tratti instabile, specie al centro-sud. Nel corso del prossimo fine settimana i principali modelli mostrano però un vasto e robusto anticiclone e rimonta tra Mediterraneo ed Europa centrale con caratteristiche quasi estive. Temperature in aumento sui valori al di sopra delle medie e ondata di caldo relativamente intensa per il periodo specie nei primi giorni della prossima settimana. Alta pressione che sembrerebbe anche persistere con l'estate settembrina prolungata fin verso l'inizio dell'ultima delicate del mese. Trattandosi comunque di una tendenza, seguite sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.